A chi si occupa di salute mentale si occupa al tempo stesso di storie individuali, sofferenze individuali, felicità individuali, però dentro contesti collettivi e sociali. Quindi chi si occupa di salute mentale si occupa di persone ma anche cittadini e quindi deve fare interventi che si rivolgano sia alla persona sia al cittadino. La figura del professor Saraceno mi ha colpito molto negli scorsi anni quando ho sentito le sue conferenze perché riesce a coniugare degli aspetti di civiltà e quindi delle problematiche di civiltà con il mondo intrapsichico e quindi mi ha sollecitato nel mettere insieme e di rapportare proprio il livello macro sociale quindi di civiltà con il livello micro che è quello del funzionamento intrapsichico e della relazione tra se stessi e gli altri. I servizi di salute mentale così come tutti i servizi che si occupano di servizi alla persona hanno la tendenza a occuparsi poco della dimensione sociale che circonda le sofferenze dei loro clienti o utenti, si concentrano su tecniche individuali quindi prevale uno sguardo clinico su uno sguardo della integrazione e di come dire empowerment verso una cittadinanza piena. In 40 anni di attività la domanda, le richieste sono mutate, le persone stesse hanno delle vicissitudini legate anche alle condizioni sociali, economiche, alla vita sempre più veloce e alla mancanza di certezze che porta la gente a chiedere più sostegno, più aiuto in una società che sempre meno è dedita all'ascolto. I servizi deputati a occuparsi delle persone vulnerabili, delle persone esposte a sofferenze psicologiche, a esperienze di esclusione sociale dovrebbero essere più aperti a trovare interventi di integrazione fra le vicende personali degli utenti e la possibilità che questi utenti trovino casa, lavoro, inclusione sociale, cioè conquistino non soltanto punti nella loro esperienza clinica ma anche punti nella loro esperienza di cittadini. Il Ticino è un microcosmo territoriale in cui ciascuno è preso dal proprio interesse di nicchia territoriale, però è anche vero che bisogna andare oltre, proprio per questo che giornate di questo genere, aperti a tutti i servizi, vogliono privilegiare il confronto, farsi conoscere perché anche nell'invio, nel lavoro di rete, se abbiamo in mente delle facce, ci riportiamo a dei visi che sono delle persone che lavorano nei vari settori, probabilmente riusciamo meglio a inviare, a riconoscere e a confrontarci con le altre persone. Bisogna andare oltre, certamente il microcosmo ticinese spesso e volentieri non favorisce questa capacità di confronto che magari in una città o in un territorio più grande è più facile. La mia prima esperienza positiva è che sono un allievo di Franco Basaglia, sono stato formato a Trieste dove certamente la preoccupazione principale era di pensare che la cittadinanza è terapeutica. Poi ho lavorato tanti anni all'Organizzazione Mondiale della Sanità e ho scoperto che queste esperienze buone si incontrano in tante parti del mondo, per esempio in Brasile c'è in questo momento un grande movimento di riforma dei servizi che fa sì che i servizi sono sempre più orientati al rafforzamento dei diritti di cittadinanza dei loro utenti. Le discipline psichiatriche e psicologiche che hanno avuto un momento di grande apertura sociale negli anni 60 fino agli anni 70 si sono poi ripiegate su tecnicismi, su clinica individuale, su un ritorno a una visione molto biomedica dei problemi che fa sì che i giovani psichiatri di oggi sono meno aperti di quanto erano gli psichiatri negli anni 70. Poi è vero che la cultura della formazione continua di dare spazio ai momenti di formazione e di supervisione non è ancora entrato proprio nella cultura delle aziende anche nel sociale. Spesso e volentieri le persone devono prendere libero, devono prendere vacanza e forse bisognerebbe favorire di più anche questi momenti proprio dentro il lavoro ordinario. Grazie. 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 Grazie.